Ripartire dalle vittorie, dai sorrisi, ripartire da un momento no, che non tutti si aspettavano. E questo è il grido di allarme che si alza dallo spogliatoio biancoverde, un grido spalancato sui social dall'amministratore unico Giovanni D'Agostino e dal 27 biancoverde Sonny D'Angelo, che nella sua stories Instagram dice ripartiamo da qui, tutti insieme supereremo questo momento. E si lascia anche a dialetto palermitano scrivendo fino alla morte Chi sti siamo? La forza del branco, del gruppo, si vede soprattutto in questi momenti. Le vittorie certo aiutano a lavorare bene senza pensieri. I pareggi e le prestazioni piatte, come quella offerta contro i baby del Latina, vanno archiviate al più presto ed offuscano quella serenità che fino ad un mese fa sembrava regnare sovrana all'interno del gruppo biancoverde. La carica, seppur social proveniente dai network più comuni, testimoniano la volontà che il club, con i massimi dirigenti in primis e del gruppo squadra, hanno voglia di riscatto e magari già a partire da mercoledì in Coppa contro l'Ancona Amatelica potrebbe esserci la prima vittoria stagionale. Anche se non sarà sfida di campionato, quella contro i Dorici è una gara che va affrontata al meglio della condizione, sia fisica che mentale, e va portata a casa. Quella voglia di riscatto che i tifosi si aspettano anche lunedì sera nel Monday Night in casa della capolista Monopoli. Quella voglia di riscatto che ora come ora dovrà essere l'ora della vittoria, l'ora del lupo, pronto a sbranare le sue prede. Grazie.